Dobbiamo sempre riepilogare che cos'è l'immunità parlamentare dopo il 1993, perché c'è una disinformazione su questo. Dopo il 1993 qualsiasi parlamentare può essere inquisito dalla magistratura come un qualsiasi cittadino. Quindi non c'è più bisogno di nessuna autorizzazione a procedere del Parlamento per indagare un parlamentare. Le garanzie residue sono solo due. Garanzia numero uno, l'insindacabilità per le opinioni espresse per il proprio mandato di parlamentare. Questa è l'insindacabilità numero uno. È sempre complicato stabilire esattamente che cos'è quando un parlamentare parla da parlamentare e non da cittadino comune. Qui c'è una giurisprudenza complicata la Corte Costituzionale. Peraltro comunque i cittadini, i giudici, pensano che il Parlamento abbia privilegiato troppo i parlamentari, possono sempre ricorrere la Corte Costituzionale che può dar torto al Parlamento. Se avete visto ieri è arrivata la Corte Costituzionale in caso Calderoli-Chianici. Il Senato ha votato che Calderoli lo ha fatto da parlamentare esercizio delle funzioni. La Corte Costituzionale è intanto dichiarato ammissibile il ricorso del giudice perché perlomeno in prima istanza il ricorso sembra fondato. Quindi attenzione, che qui in ultima analisi però decide la Corte Costituzionale, non decide il Parlamento stesso. Quindi è un sistema fortemente garantito. L'altro è l'autorizzazione agli arresti. L'autorizzazione agli arresti, che senso ha? Ha il senso che da una parte c'è il reato che commette, di cui è imputato il parlamentare e le cause per cui viene richiesta la carcerazione, specie quella preventiva, e dall'altra tutela le rappresentanze cittadini che hanno letto col parlamentare. Sono due cose in bilanciamento tra di loro. È chiaro che se uno viene accusato di aver fatto degli attentati armati, tendenzialmente per i reati di sangue, il Parlamento ha sempre concesso l'autorizzazione all'arresto. È chiaro che per reati assolutamente minori e secondari si preferisce mantenere l'integrità del pleno, perché pensate, vengono arrestati 5 parlamentari per una cosa molto opinabile, una risultatura in cui le maggioranze sono sulla soglia, significa alterare il risultato delle protezioni parlamentari, che il parlamentare che è in carcerato dell'arresto parlamentare. Quindi possono cambiare i voti in Parlamento. Ora, a me sembra che se noi costituiamo una qualsiasi Camera di qualsiasi Parlamento, queste esigenze ci siano, sia quella delle opinioni espresse, che comunque è la tutela della Corte, sia quella dell'immunità dagli arresti, che porta a un voto parlamentare. Capisco che spesso c'è una presunzione di colpevolezza sulle richieste di arresto. Quindi è molto difficile per i parlamentari votare contro richieste di arresto, perché si apre immediatamente una canea guidata al fatto quotidiano, poi a priori se un qualsiasi magistrato chiede un qualsiasi arresto, a priori ragione del magistrato. Però io lo dico non per uno del PD, facciamo a parte quello del PD. Io mi sono letto l'ultima richiesta di arresto a cui i nostri parlamentari hanno detto di no, la richiesta della Procura di Trump e il senatore Azzolini. Mi hanno fatto l'idea che fosse una boiata pazzesca, totalmente incostituzionale. I magistrati che hanno scritto quella richiesta di arresto non conoscono la Costituzione, perché l'hanno utilizzato contro il Presidente della Commissione di bilancio, che avrà fatto, ma anche volendolo accusare del PD, l'hanno accusato per i voti e le opinioni espresse in Parlamento che sono in sindacati di lei. Un mese dopo la Cassazione ha fatto a pezzi la richiesta di arresto, dicendo la cosa che ho detto io quando l'ho letta e che hanno detto i nostri parlamentari. Per alcuni, per un mese i nostri parlamentari sono stati accusati di aver fatto uno scambio segreto con Azzolini perché faceva parte di un'anzi governo, sapevano che doveva andare in da lei e l'hanno salvato a posto, perché strano me è, un mese dopo la Cassazione ha detto guardate che queste richieste di arresto non stanno in cielo o in terra, per cui prima di dire che a priori hanno sempre ragione i magistrati e il parlamentare debba essere sempre incarcerato, andiamoci piano perché per lo meno nell'ultimo caso la magistratura stessa poi in grado diverso ha detto un'altra cosa.